Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno e buon martedì 27 settembre con il Vangelo secondo Luca 9, 51-56. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, si diresse decisamente verso Gerusalemme e mandò avanti dei messaggeri. Questi si incamminarono ed entrare in un villaggio di samaritani per fare i preparativi per lui, ma essi non volevano riceverlo perché era diretto verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco da cielo e li consumi?» Ma Gesù si voltò e li rimproverò e si avviarono verso un altro villaggio. Seguo il commento di Don Luigi Maria Picocco intitolato «Siamo chiamati a testimoniare Cristo con integrità e senza violenza». Dovrebbe impressionarci la violenza inaspettata che emerge dagli scorsi di Giacomo e Giovanni quando con Gesù si vedono rifiutati da un villaggio di samaritani. Come possono un uomo equilibrato come Giacomo e un contemplativo come Giovanni affermare una cosa tanto estrema? Credo che il Vangelo ci riporti tutto questo per aiutarci a capire che, per quanto le nostre esperienze di fede possono essere profonde e serie, non siamo mai al sicuro da letture e atteggiamenti religiosi integralisti e violenti. Quando un cristiano, anche se mosso da convinzioni religiose, sceglie la via della violenza in tutte le sue forme, verbale, scritta e fisica, deve ricordarsi che questo non solo è sbagliato ed è una totale controtestimonianza rispetto al Vangelo, ma deve potersi sentire addosso la stessa reazione che Gesù riserva a Giacomo e Giovanni. Ma Gesù si voltò e li rimproverò. Oggi il Vangelo ci interroga sull'atteggiamento con cui crediamo. Troppe volte per zelo religioso scegliamo linguaggi violenti sui social, o diamo risposte cariche di rancore a chi ci contesta, o in alcuni casi trasformiamo la croce di Cristo in un'arma da scagliare contro qualcuno. Gesù non era così e ci chiede di non essere così. Siamo chiamati ad essere credenti, non crociati.